Un anno di lavoro di confronto con tutti i soggetti che operano nel campo della salute della sanità. Poi gli stati generali. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana si torna a parlare di sanità in Toscana. Al termine del dibattito viene approvata a maggioranza la risoluzione che indica le linee guida da seguire nei prossimi anni. Ad illustrarla in aula il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Emergono tanti aspetti, abbiamo fatto un'analisi a 360 gradi e quindi ha riguardato intanto dei macro temi che sono le risorse e la necessità di personale sanitario adeguato, formato, motivato che sono le due precondizioni per svolgere un po' tutta l'attività. Poi la grande attenzione da dedicare al tema della prevenzione di tutti i determinanti della salute che sono l'elemento sul quale si baserà anche la sostenibilità in futuro del servizio sanitario regionale. Poi ci siamo concentrati sul tema della governance, dopo dal 2015 c'è stata la riforma e quindi abbiamo rivalutato analizzando i dati come hanno funzionato le reti cliniche nell'ambito delle tre aziende sanitarie, evidenziando però la necessità di rafforzare il territorio disponendo l'obbligatorietà della società della salute in ogni zona distretto della Toscana e rafforzando dal punto di vista personale e di risorse. Poi ovviamente la questione è riguardata anche la non autosufficienza, il tema della disabilità e l'emergenza urgenza dove bisogna omogenizzare sostanzialmente il servizio in Toscana e poi tutto il tema della riorganizzazione del territorio che con il PNRR richiederà forse la sfida più importante dei prossimi anni. Ovviamente la mozione riguarda un po' tutti gli aspetti, poi anche per quanto riguarda l'innovazione digitale come elemento essenziale e trasversale sul quale investire molto nei prossimi anni e a partire da un'immediata resa di interoperabilità dei sistemi a l'innovazione che nei prossimi anni porterà addirittura anche da un punto di vista medio sempre più verso una medicina personalizzata. Ovviamente quando si parla di salute gli aspetti sono tantissimi, li abbiamo riassunti in questa risoluzione che impegna anche il Consiglio e la Giunta nei prossimi mesi a una serie di azioni tra i quali appunto la revisione della legge 40, il nuovo piano sociosanitario regionale, quella che riguarda una revisione complessiva degli enti di garanzia come il governo clinico e l'agenzia regionale di sanità. Come detto il documento passa a maggioranza con il sì di PD e Italia Viva, contrarie le opposizioni di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il Consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 era una riforma giusta, fu molto combattuta, io allora ero presidente della Commissione Sanità, un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano, lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiosi e diventano lungimiranti e queste poi portano dei risultati positivi, l'abbiamo visto sotto il Covid, adesso c'è da riorganizzare il sistema ulteriormente, da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere, nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto, fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES, se si va a vedere oggi i tassi di interesse che livelli avranno non soltanto adesso ma nei prossimi anni avremmo dimostrato che quelle risorse praticamente l'avremmo avuto in maniera gratuita e quindi questo è un po' il rimpianto di oltre 30 miliardi in più che la sanità avrebbe avuto e è accascata anche la regione toscana, detto questo le risorse ci sono, arriveranno investimenti, serve personale però intanto una risposta importante l'abbiamo data. Per Forza Italia c'è un dato politico di crisi nella maggioranza. Oggi si è certificata la sfiducia da parte del gruppo del PD nei confronti del governatore Gianni e della sua giunta, ma che senso ha mi domando a due anni dalle elezioni e dopo che il presidente Gianni aveva presentato con la sua giunta il programma di governo dove si parlava di sanità a fare una proposta di risoluzione degli stati generali. Si è partiti prima con la crisi di maggioranza rispetto al non assessore, poi al sottosegretario, poi c'è stata una riunione di maggioranza per il cambio di passo, così l'hanno chiamato rispetto al governatore Gianni, poi si è sfiduciato la giunta su Fidi, poi si è continuato sulle infrastrutture, ora sulla sanità e domani si scopre che verranno fatti gli stati generali della cultura e chissà magari anche quelli dello sport. Ce lo dicano chiaro, esiste un problema se lo risolvano fra di loro, quello a cui noi non possiamo partecipare è un gioco di rimballo fra giunta e il PD che lo sostiene sulle spalle dei cittadini. Ci sono 800 mila persone in lista d'attesa, ci sono 300 milioni di euro che devono essere ripianati sui bilanci della sanità, le persone non riescono a fare o a prenotare una visita e questi del PD o del centro-sinistra stanno ore a discutere per mettersi d'accordo fra di loro. Io ho fatto un esempio a Gianni per richiamare perché abbiamo presentato una nostra risoluzione. Picasso ha due periodi importanti, il periodo rosa e il periodo azzurro e l'arlecchino è in tutte e due ma sono completamente diversi per cui la nostra risoluzione che non ci viene permesso di presentarla viene eliminata perché dice che è sovrapponibile all'altra ma si basa su degli architravi completamente diversi perché noi vogliamo tre, anziché le tre asle vogliamo le asle provinciali. Noi vogliamo che il direttore generale non sia nominato dal presidente Gianni ma sia una concertazione con i territori, quindi con i sindaci, con le società della salute, con la conferenza dei sindaci. Noi vogliamo che il CUP sia rivoluzionato perché ci devono essere due agende, una di primo accesso che a un certo momento viene preso in carico dai reparti, l'altra sarebbe un'accettazione da parte dei reparti, quindi una volta che uno è dentro il sistema viene in qualche modo gestito dai reparti, quindi non è più una lista di attesa ma è una programmazione a lungo termine. Fratelli d'Italia arriva in aula con proposte alternative. Non ci limitiamo a votare conto, presentiamo le nostre proposte per una sanità differente che faranno parte del nostro programma di governo da qui ai prossimi anni. Noi riteniamo che la sanità toscana abbia bisogno di migliore efficienza, di una struttura differente, non soltanto di più soldi, se è vero come è vero che per un'ernia inguinale a Careggi si aspettano 208 giorni, a Torregalli a 3 km di distanza 103, non c'è bisogno soltanto di più soldi, c'è bisogno di maggiore efficienza e di un'organizzazione migliore del sistema, se è vero come è vero che a Pontedera per una protesi d'anca si attendono 278 giorni ma solamente 20 al San Giuseppe a Empoli che è a 30 km di distanza, c'è bisogno di più efficienza, non soltanto di più soldi, c'è bisogno di più medici e da questo punto di vista noi chiediamo che vengano inseriti nel servizio sanitario anche i medici laureati e gli specializzanti, ancora prima delle specializzazioni, chiediamo che si possano finanziare maggiore borse di specializzazione perché sapete che sono molti più i medici che si laureano di quelli che hanno accesso alle specializzazioni che sono necessarie per entrare a lavorare. La Toscana finanza soltanto 34 borse di specializzazione nel 2021, sono troppo poche, i soldi vanno spesi, vanno spesi soprattutto lì. Serve un quadro normativo regolatorio delle case di comunità, delle case di salute perché non è possibile che tutte le persone vadano all'ospedale o al pronto soccorso, ci devono essere dei punti di accesso intermedi ma in quei punti di accesso per esempio le case di comunità si deve trovare gli ambulatori, dei medici di famiglia, dei pediatri, degli specialisti, si deve trovare dei punti di primo soccorso, uno sportello farmaceutico, una diagnostica di base e se non si può lasciare tutto al caso come è stato ahimè lasciato in questi anni. Per il gruppo misto bene puntare sul tema di prevenzione e attenzione però alla sanità nelle aree interne. Noi abbiamo una Toscana che come dire presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari. È chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia che quindi ha necessità di avere determinati servizi quanto più possibili di prossimità dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie che molto spesso vivono in aree fuori dal territorio urbanizzato ma che molto spesso scontano ad esempio l'insufficienza di servizi pediatrici. Noi abbiamo in Toscana una media di mille bambini a pediatra nelle aree della provincia e questo non è assolutamente accettabile. Quindi io mi auguro che anche le nuove strutture che dovrebbero arrivare con il PNRR quantomeno siano calibrate su ambiti di servizio ottimali per far sì che effettivamente ci sia un bacino di utenza sufficiente a giustificare quel tipo di investimento. Su questo io mi aspetto ci siano delle risposte forti da parte anche dell'assessore. Dalla fotografia puntuale della sanità in Toscana, dice il Movimento 5 Stelle, arrivano però impegni generici. Mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali. Molti vengono definiti dal MES che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio sulla qualità del sistema sanitario toscano e però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione sono derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura e soprattutto manca un'ammissione di errori fondamentali che negli ultimi anni grazie anzi a causa dei tagli lineari che sono stati fatti in molti settori coperti come razionalizzazioni hanno sofferto moltissimi settori della sanità. La sanità territoriale, le liste di attesa che invece avevano ricevuto un contributo dal Governo con la Ministra Grillo, i posti letto che sono stati anche quelli tagliati. Insomma una sanità che se oggi soffre più del necessario non è più all'altezza della Toscana Felix di un tempo è colpa anche di alcune scelte che sono state fatte in passato come quella delle Maxi Asle più volte criticate su cui mai e di come mai si è tornato indietro nemmeno in questa proposta di risoluzione. Nel dibattito interviene anche il Presidente della Giunta regionale, non si stravolge l'impianto della sanità in Toscana ma si prevedono interventi che ad esempio possono dare una maggiore corresponsabilità ai direttori generali per quanto riguarda la programmazione, possono accentuare il ruolo dei direttori dell'ospedale, possono accrescere i poteri dei distretti visto le Asle grandi e quindi la necessità di decentrare un po' le decisioni sul piano dei distretti e contemporaneamente il tutto si accompagna a un forte ruolo della medicina sul territorio che vedrà con il piano nazionale di ripresa e resilienza la Toscana avere la possibilità di costruire nuove o adeguare 77 case di comunità, quelle che noi finora abbiamo chiamato case della salute, portando il cittadino magari a trovare nella casa di comunità dove ci sono ambulatori, specialisti, farmacia, infermieri che poi operano sul territorio come i medici di base e quindi evitare di andare a ingolfare i pronti soccorsi di cui ci rendiamo conto anche in questi giorni esserci forse l'elemento di maggiore criticità del sistema. Credo questo tipo di manifestazione siano oggi importantissime soprattutto nel nostro tempo attuale, un momento in cui il nostro paese ha di nuovo la possibilità di fare grandi investimenti, ne sentiamo parlare, ne leggiamo televisione, giornale eccetera ma di qualità non se ne parla. 140 opere candidate, 5 i vincitori finali, le officine Gullo House a Firenze, la scuola comprensiva di Sant'Albino in provincia di Siena, Ginori 1735 a Sesto Fiorentino, il museo dell'opera del Duomo di Pisa e piazza dell'isolotto a Firenze. Cerimonia di premiazione per l'edizione 2022 del premio Toscana Architettura si è svolta alla Palazzina Reale dove è stata inaugurata la mostra dei 20 progetti, sia vincitori che menzionati, che resterà aperta sino al 22 giugno. Il senso di questo premio è principalmente quello ovviamente di premiare le opere meritevoli ma molto della sua importanza è legata al fatto di negli anni creare una fotografia di quello che è lo stato dell'arte dell'architettura in Toscana, capire quali sono le tendenze, capire quali sono i pregi e capire quali sono i difetti e da lì partire possibilmente per compiere delle azioni e migliorarci. Noi siamo molto soddisfatti di essere riusciti a raggiungere questa terza edizione del premio Architettura da Toscana, certamente con l'aiuto di tutti i nostri partner e in primo luogo del Consiglio regionale da Toscana. Abbiamo avuto una bella partecipazione e soprattutto la qualità delle opere è stata alta. Ci sono ancora dei punti sui quali noi cerchiamo di insistere perché la presenza di opere pubbliche è ancora non così elevata. Noi ci aspettiamo anche attraverso tutta la campagna di sensibilizzazione che stiamo facendo per l'utilizzazione dei concorsi di poter avere più opere pubbliche all'interno delle candidature del premio Architettura Toscana in quanto è un premio che premia tutta la filiera, cioè premia il committente, premia il progettista e premia l'impresa di costruzione. La Regione Toscana insieme all'Associazione Nazionale Costruttori Edili è fautrice di questo premio di architettura che serve per stimolare i propri professionisti affinché possano sviluppare un progetto ancora più creativo, ancora più ecologico, ancora più in sintonia con l'ambiente e soprattutto migliorare quello che è il comfort abitativo anche alla luce delle nuove esigenze dell'abitare. Siamo concettualmente passati da un involucro edilizio a un organismo edilizio, quindi interattivo, si parla di smart house a consumo energetico zero e quindi verso quella direzione il mondo della progettazione e anche delle imprese di costruzione si sta orientando e oggi è il momento di consacrare questo premio per chi è riuscito ad avere maggior invettiva e maggior creatività verso questo obiettivo. A promuovere il premio gli ordini degli architetti di Firenze e Pisa, la federazione degli architetti della Toscana, la fondazione architetti di Firenze, ANCE Toscana ed il consiglio regionale della Toscana. Un'iniziativa che noi abbiamo voluto fortemente per tendere a unire tradizione e innovazione, per sottolineare l'importanza della Toscana come terra che sa guardare al futuro con speranza ma che partendo dalla sua storia, dalla bellezza della sua architettura, dalla bellezza delle nostre città si possa però pensare di costruire ancora di più luoghi moderni che sappiano coniugare la sostenibilità necessaria in questo tempo con la bellezza. Grazie per la visione!